Il depistaggio delle indagini dopo la strage contro Paolo Borsellino, i rimorsi del falso pentito Scarantino e il rammarico di coloro che lo hanno sconfessato. Visto l'articolo 531 CPP dichiara non doversi procedere nei confronti di Bo Mario e Mattei Fabrizio per i reati loro ascritti. Il 12 luglio scorso il Tribunale di Caltanissetta ha emesso la sentenza di primo grado al processo sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D'Amelio. No all'aggravante mafiosa, due prescrizioni e una soluzione. Nessun colpevole tra il funzionario Mario Bo, ex capo del gruppo di indagini Falcone Borsellino, diretto dal defunto Arnaldo Labarbera, e gli ispettori in pensione Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che si occuparono della tutela di tre falsi pentiti, Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura. Bo, Mattei e Ribaudo avrebbero suggerito ai tre falsi collaboratori la versione da fornire agli inquirenti e i nomi da indicare quali responsabili della strage. La falsa verità a cui tanti anni i giudici hanno creduto ha nascosto i veri colpevoli, ed ecco perché la procura sostiene che la calunnia abbia favorito la mafia. Ed ecco stata la condanna all'ergastolo a sette innocenti, poi scarcerati, e che si sono costituiti parte civile in giudizio. E tra i difensori degli innocenti, scaggionati dal pentito Gaspar e Spatuzza, che ha sconfessato Scarantino, vi è l'avvocato Rosalba Di Gregorio, che ha assistito anche Bernardo Provenzano, e che adesso, traendo spunto da quanto appena affermato da Scarantino sulla sette agiletti, vivono i rimorsi per aver accusato degli innocenti. Racconta la DN Cronos. Noi avvocati non fumo creduti, eppure per anni abbiamo detto ai pubblici ministeri e ai giudici che Vincenzo Scarantino mentiva, che era uno psicolabile. Ma non solo non fumo creduti, i magistrati ci guardavano come fumo negli occhi. Solo tanti, troppi, anni dopo ci credettero. Ma ormai era troppo tardi. Degli innocenti finirono ingiustamente in carcere, con un'accusa gravissima, l'avere partecipato alla strage di Via D'Amelio. Che Scarantino fosse psicolabile, lo abbiamo provato. Ricordo i confronti che furono fatti durante le indagini sulla strage Borsellino, tra Scarantino e tre collaboratori di giustizia, Salvatore Cancemi, Gioacchino Labarbera e Santino Di Matteo. Ricordo come fosse ieri una frase di Scarantino che fece inorridire Cancemi, quando Scarantino, parlando delle gerarchie in Acosa Nostra e del suo ruolo, disse guardia invece di soldato. Cancemi era inorridito e disse che stava recitando un copione, ma non fu creduto. L'avvocato di Gregorio cita testualmente la reazione di Cancemi, che si rivolse così a Scarantino. Guarda, guardami, ti posso dare del tu? Perché io non ti conosco, non ti ho mai visto nella mia vita. Scarantino, io lo conosco. Cancemi, ma tu sei uomo d'onore? Sai che significa, che vuol dire uomo d'onore? Che intendi tu? Spiega che significa uomo d'onore. Tu non lo sai cosa significa uomo d'onore, tu sei un bugiardo. Chi te l'ha fatta questa lezione? Dicci la verità, devi dire la verità. Ma chi ti conosce? Ma chi sei? Ascoltami, ascoltami, io ti invito a dire la verità qua, in presenza di questi signori giudici. Chi ti ha fatto questa lezione? Chi ti ha detto di dire queste cose? Chi ti ha messo queste parole in bocca? Tu se sei veramente una persona seria, chi te l'ha detto? Dicci la verità. Qua, se tu hai coraggio, se sei uomo d'onore, perché tu nemmeno sai che significa la parola uomo d'onore, Cancemi, che partecipò alla strage Borsellino, poi si rivolse ai magistrati. Attenzione, state attenti, è falso, non credete nemmeno a una virgola di quello che vi sta dicendo, perché non so chi è, non lo conosco, io sono convinto, io sono convintissimo. Chi ha questo qua, queste cose, gliele hanno messo in bocca, gli hanno fatto una lezione e ora la sta ripetendo. E poi l'avvocato Rosalba Di Gregorio conclude, ci sono una serie di elementi processuali dai quali si capiva che Scarantino mentiva. E poi perché affidare quelle indagini al gruppo investigativo Falcone e Borsellino, diretto da Arnaldo Labarbera? Perché lo dovevano istruire, è semplice. Noi, quei pubblici ministeri, poi inquisiti, li abbiamo denunciati in aula, ma non fummo mai creduti. Li denunciamo anche per omissione, per intercettazioni atti che non furono depositati, carte che riguardavano gli imputati del processo per la strage. Noi dicemmo al Presidente, vuole dire ai pubblici ministeri di depositare quelle carte? Ma la risposta era sempre la stessa. No, non riguardano gli imputati. Ma non era così. Sicuramente ci sarà stato qualcun altro che gli ha ordinato di fare determinate cose.